Siamo arrivati alla 24esima edizione quest'anno, apri battenti venerdì 6 di ottobre, saremo aperti fino a domenica 15 di ottobre, con i seguenti orari dalle 16.30 alle 21.30, giorni festivi anche la domenica, dalle 16.30 alle 22.00. Abbiamo 250 espositori presenti in fiere con tutte le novità, con tutte le novità nel senso sia della sposa, con il salone enogastronomico ma anche il salone del commercio e dell'artigianato, con il salone della sposa e con le novità anche delle edilizie, quindi dell'arredamento e tutto quello che è per la casa. In più abbiamo tanti eventi che è possibile vederli sul sito internet oppure sulla pagina Facebook. Domenica 15 ottobre abbiamo voluto dedicarlo alla prevenzione, quindi un giorno dedicato alla prevenzione per vivere in salute, si chiama Percorso Salute, è organizzato dalla Core Aps che è un'associazione di categorie sanitarie che sarà presente in fiera con diversi stand gratuitamente, si metterà a disposizione per la prevenzione a tutti i cittadini che lo richiederanno. Consigliere, la fiera di Lago Pesole raggiunge quasi il quarto di secolo dalla sua nascita, come ha detto in conferenza stampa, forse richiede adesso di un'attenzione più concreta e stabile nel tempo da parte della Regione. È proprio così, intanto dobbiamo ringraziare Giovanni Possidende e Fiere Lucane per questa iniziativa e per tante altre proposte con grande capacità professionale portando in campo un dinamismo che è assolutamente utile per il nostro territorio. Nel caso di questa fiera che ormai va avanti, come è stato ricordato, da 24 anni si caratterizza per due peculiarità, è dedicata all'artigianato e quindi è una fiera che è pressoché unica nella nostra regione, poi è una fiera che nasce dal basso, è una fiera che vive del protagonismo dei territori, è una fiera che vive del protagonismo delle nostre aziende, ci sono, accettano la sfida di proporsi, di farlo in un contesto molto professionale e quindi si tratta di un che sicuramente merita attenzione. Sostenere questa fiera significa sostenere la nostra economia, il nostro artigianato, significa sostenere le nostre tante piccole attività. Ci auguriamo, mi auguro, che per il prossimo anno, in occasione del 25esimo, il sostegno possa essere non casuale ma un sostegno strutturato a riconoscenza della importanza di questa fiera per il nostro territorio e per la nostra economia. Sì, siamo quasi alle nozze d'argento e questo testimonia della importanza di questo evento, di quanto chi ha organizzato questo evento lo fa con determinazione e soprattutto si apre anche ad altri territori e diventa una vetrina importante di produzioni, di artigiani, un'occasione anche per combattere una crisi che sembra mordere questo settore. Grazie alla volontà degli organizzatori siamo ormai riusciti ad avere un evento stabile e continuativo nel tempo e noi proviamo a sostenere il coraggio di questi imprenditori con le difficoltà che abbiamo ma è la risposta più adeguata a una esigenza anche di visibilità di operatori economici che diversamente non avrebbero occasioni per potersi farsi conoscere, per attrarre persone, spesso anche da regioni limitrofi, quindi è un appuntamento al quale noi guardiamo con grande interesse anche per lo sviluppo dei nostri territori. Questo straordinario evento che ritengo necessario a supporto delle piccole e medie imprese della Basilicata, lo dicono i numeri se non sbaglio, il 15% delle imprese sono comunali, il 70% sono territoriali, regionali, il resto vengono da fuori regione. Credo che l'ambizione di questa manifestazione è quella di ampliare quel numero della interregionalità. Noi ci mettiamo a disposizione degli organizzatori per fare persuasione nei confronti della regione Basilicata per regolamentarle, è un po' di anni che diciamo che abbiamo bisogno di una legge regionale sul commercio, questa è un'occasione per poterlo ribadire.